Musica Senti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Se vedete qualcosa di strano a parte i miei capelli E perchè ho cambiato fotocamera Qui stanno penso trapanando il mondo E questo, comunque questo video andava fatto Quindi mi raccomando Le migliori offerte del Black Friday Sono in offerta Sì, le offerte grazie sono in offerta Sono disponibili non solo su questo video Che proverò ad aggiornarlo costantemente Senza dare botte al microfono Durante tutta la giornata Più sul posto community, più sulla pagina Facebook Ma soprattutto tutte le offerte, quelle più segrete Quelle proprio tatà Solitamente quelle di house di house che c'è un pezzo solo Quando voi vi dite ma metti le offerte e poi non c'è più Sì perchè c'è un pezzo e l'hanno già preso Quindi devi spicciarti a prenderlo Sono sul canale delle offerte e vi lascio Tutto qua in descrizione Ma nonostante questo abbiamo raccolto qualche Piccola offerta per voi, qualche piccola offerta Qualche grossa offerta per voi Che potete vedere qui già sotto nel link Alcune non saranno disponibili da subito Ma nel corso della giornata Qualcuna potrebbe essere già finita Perchè qualcuna è veramente buona Ma comunque provo a dirvele Prima di tutte la state vedendo in questo momento Non è la fotocamera che sta registrando ovviamente Ma è questo bel case qui Genova G14 Come possiamo notare Questo case è praticamente il dio dell'airflow Almeno al momento Costa soltanto 75 euro circa Ci abbiamo front mesciato Top aperto Vetro temperato Quattro ventole RGB rainbow Copri PSU ovviamente Per 75 euro E' letteralmente il best buy La mia è da 0,7 mm Quindi comunque la mia è bella doppia e spessa Se volete il case E' questo qui Per chi si aspettava qualche offerta Su Comunità di hardware Non ci sono grandissime offerte Ma c'è comunque una GTX 1060 Expedition A 259 euro Poi ovviamente Una delle cose che fa più sconto Solitamente il Black Friday Non ho capito perché Sono i monitor C'è questo bel monitor Samsung Questo qui se non sbaglio Il modello curvo Da full HD 24 pollici A 120 euro Un buon prezzo Solitamente si trova a 30 euro di più Quindi comunque Se volete iniziare Nell'esperienza curvi Nel senso di monitor curvo Questa qui è una buona soluzione Per entrare Per chi invece Ha ancora un pochettino Più scannato a soldi Come mi avete fatto diventare voi Dopo la live Qualcosa è già arrivato Vedrete le foto Nei prossimi giorni Alla fine L'unica cosa che deve arrivare Su ancora Il Master Vat Light Che non hanno ancora spedito Non ho capito perché E il monitor E-Tech Che invece hanno spedito E infatti Poi parlando di monitor C'è anche un bel monitor Racer Da 99 euro Questo qui è il classico monitor Di non ho soldi Voglio un monitor Questo Un'ottima offerta Per chi invece vuole Qualcosino in più C'è un bel monitor BenQ Questo qui se non sbaglio È un 2K E infatti no Questo qui è un bel monitor Diciamo tra virgolette Da gaming Per introdursi All'esperienza gaming In 4K Monitor con un prezzo fenomenale Perché costa A 270 euro Solitamente a questo prezzo Si trovano dei full HD Di fascia alta Qui abbiamo Un 4K Con tempo di risposta A un millisecondo Faremo un discorso Anche su questo Perché poi in realtà Non è mai così Però comunque sia Un bel monitor Un'esperienza di risposta 4K Oppure a 319 euro Che infatti Mi dicevo prima Costano di più E c'è una risoluzione Più bassa Non si spiega perché Invece ve lo spiego Perché c'è questo Bellissimo Samsung Che 27 pollici In questo caso 1440p 144Hz Questo quindi Un monitor Molto adatto A chi magari Vuole giocare agli sports Oppure a giochi competitivi Con refresh rate Molto alto Quindi a schede video Di grande potenza Per giocare A questo frame rate alto Ovviamente C'è anche una buona selezione Per quanto riguarda Del comparto audio Ci sono cuffiette zolo In offerta Vedo anche delle Sennheiser Bluetooth Tutta una serie di cose Che vi metto qui In descrizione Mi sono informato Prima di mettervi Queste offerte Per dirvi che sono Effettivamente prodotti Fai Anche perché sapete Che io di audio Non sono un grande esperto Ho chiesto comunque A chi era più bravo di me E quindi ve li metto Qui in descrizione Non vi do altre caratteristiche Perché meglio Che non dico stupidaggini Allo stesso modo Però come tutti quanti I Black Friday C'è una selezione Di monitor Di portatili Molto interessanti A partire dai Surface Pro Che sono dispositivi Che hanno un determinato Tipo d'utilizzo Che ovviamente Come caratteristiche Non ne fanno Magari il loro cavallo Di battaglia Però sono il loro cavallo Di battaglia Tipo come portabilità Ottimizzazione E quant'altro C'è il Surface Pro Ic con un i5 8 GB RAM 256 di SSD A 899 euro Con la tastiera A 999 euro E' un prezzo Considerando che Questo portatile In realtà Un tablet 2 in 1 Non sapevamo come chiamarlo Costa spesso Anche più di 1200-1300 euro Quindi comunque C'è un risparmio Di circa 300 euro Forse anche di più Allo stesso modo però Se comunque vogliamo Un pochettino di potenza Per giochicchiare Per fare qualcosa E spendere comunque Un po' meno C'è un portatile Tra virgolette normale Che la CESWIFT Assemble ogni 5 8 GB RAM 256 GB di SSD Più un MX150 Per fare qualche giochino E comunque Un MX150 Qualche bel gioco Ci gira pure Un'altra cosa Che si trova spessissimo Nel Black Friday Sono le televisioni Anch'io ho provato A comprarne una La volumina Da Operhouse Dias Abbiamo infatti Pubblicato sul canale Telegram delle offerte Delle televisioni 4K A 55 pollici HDR A 255 euro Non ne so riuscire A prendere una Mi sto a mangiare le mani Però soltanto Sta macchinetta Io Mannaggia a me La macchinetta Mannaggia a YouTube C'è questa televisione De Philips 4K Smart TV Ovviamente Capelli Mannaggia a voi 50 pollici HDR A 439 euro Anche questo qua Prezzo molto interessante Solitamente Stato un centenario Di più Un'altra per la Smart TV 4K Sempre 43 pollici Questa volta Infatti costa di meno 3,39 E in più C'è anche Il monitor Samsung Monitor Televisione Samsung 49 pollici 4K Ultra HD Vabbè 4K Ultra HD La stessa cosa Smart TV Ovviamente 499 euro Probabilmente Questa qui Come resa cromatica È quella più bella Infatti è quella che costa un po' di più Nonostante sia anche un po' più piccolina Però diciamo che solo al prezzo Ne vale la pena Sono tutti i prodotti Che solitamente costano Dalle 100 Alle 200 euro in più Siamo stati per due anni Senza le RAM Oggi si sono ricordati Di mettere in offerta Le RAM Abbiamo comprato tutti Quindi il RAM A 150 euro No Perché oggi abbiamo 16 GB Queste sono le Ballistic Da 2400 MHz A 99 euro Dopodiché Ci abbiamo anche Le Ballistic Sport Questa volta 16 GB 2400 A 105 euro E Basta Si basta Vabbè Comunque Sono sempre RAM Comunque In dual channel Cioè due banchetti RAM Dual channel Di conseguenza Possiamo sfruttarle Sia per Intel Sia per Ryzen Comunque Ci sono anche Altri tagli In descrizione Per chi magari Ha bisogno di 8 GB E non di 16 Oppure per qualcosa di più Questo è un trapano Ci sono ovviamente Una marea di smartphone Ci abbiamo Sonics Zera Premium In offerta A 249 Sonics Z1 A 229 Zenfone 550 A 399 L'OP6 A 864 L'OP6 A 828 C'è l'ira Di Dio Di telefoni Non ve ne parlo Perché poi Voi sapete io Che rapporto Ci ho con i telefoni Di odio Ma secondo me L'offerta più forte Sono sui portatili Con i portatili Ryzen Tra virgolette C'è il portatile Con Ryzen 3 2200U A 399 399 euro E c'è il portatile Tra cui l'altro Ho fatto il video Circa un mesetto fa Il Matebook di Huawei Con Ryzen 5 2500U Davvero Un bel portatile Io l'ho pagato 599 Oggi sta 499 Per chi volesse Prendere un portatile Con 500 euro Raga Prendete quello Rapporto prezzo Prestazioni E' fenomenale Soprattutto per lo schermo Che è veramente bello Tra l'altro Non è molto compatto Che è comodissimo E portarlo in giro Ed è anche Molto potente Detto questo Non penso di dovermi Dilungare oltre Tutte le offerte Come vi ho già detto Le troverete Sul canale Che vi invito Ancora una volta A seguire Tutti i link In descrizione Ma adesso Voglio lanciarvi Una sfida Ho fatto degli acquisti Che devono arrivare A parte quegli acquisti Sono cose Veramente Veramente Carine Ma Ve le farò vedere Soltanto se questo video Raggiunge I 2500 like So che sono Tanti like Per un video del genere Perché comunque Alla fine E' un video Soltanto informativo D'offerte Magari non tutti Sono interessati Anche perché So che non tutti Ci hanno i soldi Funziona così Anch'io Sono arrivato Al Black Friday Senza soldi Nanna mette soldi Per il Black Friday Prendiamo i soldi Sì che prendo la macchinetta Fini i soldi Perché Perché vi compriamo I motori Detto questo Mi raccomando Lasciate un mi piace Commentate Condividete E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao